Siamo, su, da Quigonia, del team Lomeni di Pasquoni, Simone Paderici! Siamo, su, da Quigonia, del team Lomeni di Pasquoni, Nicola Pietro Ciccani! Grazie a tutti! Siamo, su, da Quigonia, del team Lomeni di Pasquoni, Nicola Pietro Ciccani! Siamo, su, da Quigonia, del team Lomeni di Pasquoni, Nicola Pietro Ciccani! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.